Oh, un povero animaletto. Guarda dove è caduto. Piano, fa piano. Prendilo su. Guarda. Non puoi neanche volare. Poverina. Perché le hanno spuntato le ali, vedi? Oh, poverina. Via vita. Ho avuto un lampo di gelio. Che lampo di gelio? Ah, tu devi giocare alla lotteria. Sì, mia cara. Compera un numero questa sera per il sorteggio. E domattina devi uscire molto presto a comprare il giornale. Sono sicura che tra i numeri vincenti ci sarà anche il tuo. Oh, dai. Hai speso i soldi che avevamo? Che cosa ti viene in mente? Quei soldi mi sono per altre cose, lo sai? No, devi giocare alla lotteria oggi stesso. E scegli un numero che finisca col 24. Perché 24? Per la colorina. Nella lotteria è il numero 24. Non ti dico che prenderai il primo premio, ma potresti vincerne uno più piccolo. O, se neanche cosa, comunque vincerai. O, perlomeno recupererai. Ti prego, ti prego, Bianca, acquista il biglio. No, Faglia, non spenderò quei soldi sulla lotteria. Va bene. Eh, va bene. Come ti riferisci? Poveri. Cosa ne farai della colonna? Andrò a metterla in qualche posto. Lasciala, lasciala. Ci penso io. Va a vedere se è arrivato tuo padre. Vai. 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 Mio Dio, ti supplico. Fai modo che non gli sia accaduto nulla. Ti prego. Si può, Faglia? Sì, entra pure. È arrivato papà. Stava cercando un lavoro, no? Sì, l'ho anche sgridato. Spero solo che non si ripeta. Ah, è proprio un testardo. E beh, tu non sei da meno però, eh. Con quello che ti ha detto la mia amica, che vede molto denaro nel tuo futuro, non vuoi comprare un biglietto per il sorteggio di questa sera, ma... Mi piacerebbe comprarlo, solo che ho paura di gettare via i soldi. Ma se non costa neanche molto. Inoltre vincerai. Eh, spendendo solo qualche pesos, ne vincerai una montagna, sai. Ma dove lo trova adesso un biglietto che finisca con il numero 24? Guarda, nel chiosco di Felipe c'è un biglietto che finisce con il 24. Il 50.024. Ti decidi? Dopo, quando andrò a vendere i fiori, posso comprarlo. Andiamo. Don mi ascolto. E' un numero fortunato. 50.024. Spendiamo 200 peso, se ti va. D'accordo, hai vinto, Ophelia. Te lo immagini. Domani noi saremo ricche. E lo comprerò con questi soldi, eh. E vado ad acquistarlo prima che sia tolto tardi. Ti accompagno a vendere. No, no, no. Rimani con tuo padre. E' capace di uscire di nuovo. Se non ci vediamo dopo... E sognare di diventare ricca. Incrociamo le dita. Bene. E' fatta. Il dado è tratto. Sono certa. Tu vedrai, Felipe. Questo domani sarà il primo premio. 50.024. 50.024. Ophelia. Ophelia. Papà. Papà. Papà, abbiamo vinto. Ma cosa c'è, figliolo? Di cosa parli? Ophelia e io abbiamo comprato un biglietto ieri. Il 50.024. E abbiamo vinto il secondo premio. No. Sì. Abbiamo vinto alla lotteria, papà. Abbiamo vinto alla lotteria. Capisci? Qui, guarda qui. Ma certo. Guarda qui. Sta qui, guarda. Che te ne pare, papà? Sì, è il secondo premio. Ma ti rendi conto, papà? Ti rendi conto che fortuna. Avrei voglia di cantare, di ballare, di non so quante altre cose. Potrò comprare dei vestiti nuovi. E tutte le cose che hai bisogno. E poi passeremo un Natale bellissimo tutti insieme con tanti regali. Oh, ma così diventi pazza. Ma che si importa? Dio è grande, papà. Davvero Dio è tanto grande. Ma ora sarà tutto diverso per noi, papà. Tutto diverso. Bianca. E Ophelia, vado a darle la buona notizia. Ophelia. Mi ha detto Fito che mi stavi cercando. Oh, signore. Tu e Cirilla avevate ragione. È caduta dal cielo una pioggia di denaro. Abbiamo vinto alla lotteria. Ah. Il numero che hai comprato ha vinto, Ophelia. E' vero. Che numero è uscito? Vedi, il 50 mila e il 24. Eh? Accidenti, il 50 mila e il 24. Abbiamo vinto, Ophelia. Abbiamo vinto. 50 mila e il 24. Sì. Hai comprato il biglietto come d'accordo, vero? Sì. Sì, Bianca. Allora ci divideremo il premio, Ophelia. Bianca. Ascolta. Perché la prendi in questo modo, Ophelia? Al contrario, dovresti essere contenta. Abbiamo indovinato la lotteria. Se tu sapessi, Bianca. Se tu sapessi. Che ti succede? Perché è tanta angoscia? Danno la faccia di guardarti. Benito. E tu mi roba la testa. Capisco di cosa pari. Del numero della lotteria. Non riesco a capirti, Ophelia. No. Non abbiamo vinto niente, Bianca. Ma forse tu non hai capito. In questo giornale è scritto 50.024, secondo premio. Sì. Però è successo... Che io non ho preso quel numero. Ne ho preso un altro.